Allora, intanto benvenute e benvenuti a tutti per questa giornata di ricordo a un anno dalla scomparsa di Antonio Laforgia che è anche occasione per ricordarlo e commemorarlo con l'edizione di un volume che presenteremo oggi nel corso della giornata. E partirei introducendovi e presentandovi gli ospiti. Io sono Angelo Leggeri e faccio parte del gruppo di lavoro che ha lavorato a questo testo di oggi. Partirei in ordine di presenza sul tavolo dalla mia sinistra con Marinella Manicardi, attrice che avrà il compito oggi di guidarci e leggerci alcuni passi di questo lavoro. Poi dovremo avere Albertina Soliani che ha curato peraltro la prefazione del volume, abbiamo il presidente della regione Stefano Bonaccini e la presidente dell'assemblea legislativa Emma Petitti e attendiamo il sindaco Lepore che è arrivato proprio in questo istante. La giornata di ricordo si svolgerà sostanzialmente così, partiremo subito con un contributo video e poi lasceremo la parola ai vari ospiti che avrò il compito di introdurvi. Ma prima di tutto vorrei fare un po' di saluti e di ringraziamenti. Chiaramente dopo aver presentato e salutato i relatori vorrei rivolgere un saluto a tutti voi che siete qui oggi questa giornata e a partire dalla moglie di Antonio Laforgia, Maria Chiara, dai figli Francesca e Mauro e poi chiaramente tutte le persone che sono intervenute. Mi preme fare anche qualche piccolo ringraziamento per questo lavoro che è stato un lavoro utile non soltanto per chi lo riceverà ma anche secondo me per chi ci ha lavorato perché ci ha consentito di ripercorrere attraverso i nostri archivi un po' la storia amministrativa e politica di Antonio Laforgia attraverso i suoi discorsi. Quindi vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento all'altro curatore del volume che è Giovanni Taurasi a Walter Vitali e Mauro Felicori che hanno avuto anche un importante ruolo di impulso su questo lavoro a Francesca Bruni, a Narita Iannucci, a Maria Maugeri, Luca Palestini e Sergio Floriani del Comune di Bologna insomma tutti hanno dato un contributo importante. Prima di passare la parola al video vorrei rivolgere anche un ringraziamento a chi ci ha aiutato un po' a trovare i materiali anche di carattere fotografico per cui ringrazio l'archivio della Cineteca di Bologna e il resto del Carlino, la redazione di Bologna e il resto del Carlino che ci ha aiutato a reperire alcune immagini come la Repubblica Bologna e lo studio EICON e poi l'archivio della Regione Emilia Romagna e la Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Quindi partirei con il breve contributo video per partire. Il punto di partenza dei materiali che presentiamo oggi è il tentativo di prendere compiutamente atto dei processi di globalizzazione e cercare di vedere come l'Emilia Romagna, l'intero territorio regionale, possa stare in questi processi. è una scelta ma è anche una scelta obbligata, ormai è avviata la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e le imprese emiliane che costituiscono un patrimonio piuttosto importante per risultati raggiunti, per efficacia nella gestione di questi servizi, per competenze tecnologiche hanno un'alternativa entro la quale devono scegliere o rinchiudersi appunto nei confini degli ambiti che attualmente sono da loro serviti oppure affrontare la sfida della liberalizzazione che è anche una sfida competitiva. La priorità fondamentale è quella di spostare l'accento dal policentrismo che sicuramente resta un valore caratteristico di questa regione appunto alle relazioni sistemiche mettere questa regione in condizione di reagire come un tutto, come un'unità coesa alla competizione internazionale. Sono convinto che sia necessario rilanciare davvero la coalizione dell'Ulivo spingerla davvero su un processo federativo delle forze politiche che la compongono mi è apparso che l'iniziativa presa da Romano Prodi si muovesse con decisione in questa direzione e mi sono regalato il piacere di prendere parte a quell'iniziativa. Qual è a suo parere il principale problema che hanno oggi i democratici di sinistra? E' quello che dice Veltroni, rifiutare l'appagamento, rifiutare l'appagamento dal punto di vista dell'irrobustimento dei valori della sinistra, rifiutare l'appagamento dal punto di vista della ricerca dell'innovazione programmatica e rifiutare anche l'appagamento dal punto di vista della riforma del sistema politico. Grazie a tutti! Adesso passerei la parola Stravolgendo un po' la scaletta lascerò la parola al Presidente della Regione Stefano Bonaccini che dovrà lasciarci tra qualche minuto per un impegno istituzionale. Grazie, scusatemi ma devo andare all'assemblea delle pubbliche assistenze che sono intervenute stanno intervenendo nei territori alluvionati ma ci tenevo molto a venire. Saluto la moglie, i figli, tutti i familiari e credo sia stato giusto da parte anche dell'assemblea legislativa e di tutti coloro che hanno collaborato venivano descritti alla cura di questo volume ricordare Antonio soprattutto con le sue idee, i suoi pensieri. Io, se siete d'accordo e per brevità, per non rubare dopo tempo, vi leggerei quello che ho scritto nel contributo al volume. Lavoro, studio, impegno, in politica e nelle istituzioni. Tre parole chiave che hanno segnato l'azione e la vita pubblica di Antonio Laforgia forlivese di nascita e bolognese di adozione, capace di tenere assieme, come quel trattino tra Emilia e Romagna riformismo e passione caratterizzano la nostra regione. Si era laureato in fisica a Bologna e forse proprio dai suoi studi derivano quella curiosità e una profondità di osservazione che hanno contraddistinto il suo pensiero insieme alla volontà di ricercare teorie e metodi in grado di interpretare e migliorare la realtà. Nel corso della sua vita ha attraversato da protagonista gli anni del 68 e della fine degli anni 70, partecipando in modo attivo a tutte le fasi di trasformazione della sinistra, dal PC alla svolta della Bolognina al fianco di Achille Occhetto, diventò poi, dopo il congresso di Rimini del 1990, segretario prima della Federazione Bolognese del Partito Democratico della Sinistra e poi del 1994 di quella regionale. Io lì ebbi il primo incontro con Antonio Laforgia, non l'avevo mai incontrato in vita mia, ero segretario della Federazione Provinciale Modena della Sinistra Giovanile, che da poco aveva sostituito la Federazione Giovanile Comunista, e un giorno mi chiamano e mi dicono, guarda c'è il segretario regionale che ti vuole parlare. Io arrivai a Bologna, c'era ancora via Barberia e seppur non era più il PC, entrare in quel luogo, capite che per chi aveva un percorso di politica come il mio da ragazzino, era entrare in un luogo abbastanza identitario, diciamola così, con un eufemismo. E in realtà mi voleva vedere perché rimase colpito dal fatto che avevamo un numero di iscritti enormemente superiore a tutte le altre federazioni. Ma il motivo non era che eravamo particolarmente capaci, è che avevamo deciso che tutti quelli sotto i 29 anni erano automaticamente iscritti alla Sinistra Giovanile. Io però rimasi a discutere con lui, me lo ricordo ancora, quasi due ore, e io rimasi colpito da un tratto anche umano, che credo oggi manchi molto alla politica, che era quello di saper ascoltare, perché io non ero praticamente nessuno, e lui era comunque il segretario regionale del PDS, e in ogni caso della più grande federazione d'Italia, di un grande comunque partito, e ricordo una chiacchierata molto bella e che poi ci permise nel corso degli anni successivi, seppur io, come dire, frequentavo e ho frequentato per un bel po' Modena più che la Regione, di avere comunque un'interlocuzione anche quando avvennero distacchi dagli stessi partiti di appartenenza. E credo che quel tratto umano, che poi voleva dire un tratto anche politico, era un tratto davvero di cui oggi sentiamo molto la mancanza, l'educazione, il rispetto delle idee degli altri, l'ascolto, e in ogni caso la determinazione nel portare avanti le proprie idee. Tant'è che partecipò pienamente alla nuova stagione dell'Ulivo, e poi, come abbiamo anche sentito e sappiamo, partecipò alla nascita successivamente dell'asinello di Romano Prodi, dei Democratici, e poi nella Margherita e fu protagonista nel percorso che portò alla nascita del Partito Democratico. Fine intellettuale, uomo delle e nelle istituzioni per oltre 30 anni, parlando della sua esperienza come Presidente della Regione Emilia-Romagna, amava dire di aver fatto apprendistato partecipando a un lavoro affascinante e collettivo. Andava orgoglioso della Fondazione dell'Istituto per il Lavoro, un luogo neutro nel quale imprese e sindacati potessero incontrarsi per affrontare insieme, con un supporto pubblico di carattere tecnico-scientifico, la messa a punto dei processi di innovazione. Una via alta di qualità attenta alla coesione e alla sostenibilità sociale ed economica della competizione globale, l'abbiamo sentito, che si andava profilando. Devo dire che quell'istituto, credo Duccio sia d'accordo con me, fu il prodromo di quel patto per il lavoro, che le vostre amministrazioni, poi diventato patto per il lavoro e per il clima, durante quelle che sto presiedendo io con le persone che ci danno una mano, come luogo di incontro, anche questo inedito in Italia, tra le parti sociali, anche chi ha interessi contrapposti, per cercare sempre una via di mediazione alta alle politiche di un territorio. Ampio il suo contributo sul tema delle autonomie e del federalismo, con le riforme, anche questo abbiamo sentito, realizzate alla fine degli anni 90 e che avevano come punto di partenza la necessità della riorganizzazione dello Stato, della riforma degli ordinamenti territoriali e infraregionali, per il completamento del riassetto che era iniziato negli anni 70 con la nascita delle regioni a statuto ordinario. Un politico coerente, credo che questa parola piacesse molto ad Antonio, lasciò la guida della regione per seguire le sue idee e convinto della necessità di ampliare gli orizzonti del programma amministrativo e del centro-sinistra nel Paese e a tutti i livelli delle istituzioni. Figure di grande spessore, capaci di mettere al centro il confronto politico e la ricerca di soluzioni sempre nuove a beneficio delle persone e della comunità, altra parola che piaceva molto alla Forge. Come dimostrò anche la Presidenza dell'Assemblea Legislativa Regionale dell'Emilia-Romagna e poi da Deputato della Repubblica. Un anticipatore, si potrebbe dire, e anche un uomo coraggioso fino alla fine. Questo volume è uno spazio prezioso nel quale attraverso i suoi scritti possiamo ritrovare una testimonianza politica importante e un testamento che merita di essere letto, riletto e io dico anche restituito alle future generazioni. Per un presente e un futuro nuovi e ovviamente ognuno di noi si augura anche migliori. Grazie. Ringrazio il Presidente Stefano Bonaccini e adesso passerei la parola per la lettura della biografia a Marinella Manicardi. Quella di Antonio Laforge è una biografia molto ricca, quindi la trovate tutta sul libro che è bellissimo e io andrò per punti molto veloci. Antonio nasce alla vigilia di Natale, il 24 dicembre del 1944. Il padre Mauro era docente di italiano latino, però attivo in politica tra PSI e PC fin dal dopoguerra e dal 70 al 75 è assessore all'igiene pubblica e alla tutela dell'ambiente nella regione Emilia Romagna. Quindi il padre è letteratura e politica. Antonio invece a 18 anni si iscrive al PC e alla facoltà di fisica, politica e fisica, le sue due grandi passioni. Alla facoltà di fisica diventa segretario degli studenti e nel 67 ha un ruolo importante nell'occupazione dell'Istituto di Fisica che dà il via di fatto al 68 bolognese. Aveva conosciuto Claudio Sabatini a un'assemblea del 64 e si era collocato con lui nell'area a sinistra del PC ispirata a Pietro Ingrao, ma è nel movimento degli studenti che si consolida il loro rapporto. Sabatini ne diventa presto uno dei leader più importanti. Antonio lo ha sempre considerato il suo primo maestro. Si laurea in fisica nel luglio del 67 e diventa borsista subito al Centro Nazionale delle Ricerche CNR, ma nel dicembre dello stesso anno diventa il primo segretario della sezione universitaria del PC Jaime Pintor che si definisce sezione universitaria comunista, la SUC, che però non diventa mai un braccio politico del partito tra gli studenti, semmai l'opposto, forte del suo ruolo di presenza riconosciuta e in qualche caso di egemonia del movimento studentesco bolognese. Questa collocazione della SUC è un caso raro a livello nazionale. La SUC ha una forte impronta movimentista e operaista ed è critica nei confronti dell'URSS, ma non rompe mai col PC, neanche l'indomani dell'invasione sovietica in Ciecoslovacchia nel 68, neanche nel momento in cui il gruppo del manifesto viene radiato dal partito. La teoria della SUC, del suo gruppo dirigente, è eretici sempre, scismatici mai. Eh, bell'insegnamento. Vale a dire che la battaglia politica va fatta all'interno del PC. Nel 69 le lotte operaie cambiano il quadro e per il movimento studentesco, SUC compresa, comincia un collegamento molto forte con la classe operaia, che diventa centrale. In quell'anno Sabatini passa all'ufficio sindacale della Camera del Lavoro CGL di Bologna e Antonio fa l'insegnante all'Istituto Aldini Valeriani, le gloriose e importantissime Aldini Valeriani. Per un breve periodo è anche segretario del sindacato scuola della CGL, che è appena nato. Nel 70 diventa funzionario della Federazione del PC di Bologna con l'incarico di responsabile scuola e università e viene eletto nel Consiglio Comunale. è il rappresentante, Antonio dice, l'ostaggio della SUC nel PC. Però continua a essere, ma proprio per questo, un costante punto di riferimento per i più giovani in quegli anni. Da responsabile scuola, dirige la fase di attuazione a Bologna dei cosiddetti decreti delegati dell'inizio degli anni 70 con l'obiettivo di aprire spacci importanti di gestione democratica all'interno della scuola. Nel 73 entra nella segreteria della Federazione del PC. All'elezione amministrativa del 75 la lista due torri PC e indipendenti raggiunge il massimo storico, 31 consiglieri su 60. Alla fine dell'anno, Antonio è eletto capogruppo in Consiglio Comunale. Dopo le elezioni politiche del 76, Renzo Inveni diventa segretario della Federazione e Antonio si trasferisce a Palazzo d'Accursio e come capogruppo per tutto il 77 dovrà gestire la contrapposizione con il movimento degli studenti compito non facile. Nel dicembre diventa assessore alla ristrutturazione degli uffici e dei servizi del comune e nell'80 anche assessore al personale, compiti enormi. Ma Antonio ha prestigio e può così ottenere di cambiare in profondità il funzionamento dell'amministrazione comunale. In non molti anni si passa ad una chiara distinzione dei ruoli tra politica e amministrazione, alla riforma dei quartieri e del Consiglio Comunale per distinguerne i compiti da quelli della Giunta, al controllo di gestione economica. Per rendere tutti consapevoli, cittadini per primi, delle risorse impiegate nelle diverse attività del comune. Ancora, gran parte dei dirigenti e delle dirigenti del comune viene da allora selezionata e formata con il corso-concorso promosso da lui all'inizio degli anni 80. È una formula, anche questa, innovativa. Sono tutte innovazioni che anticipano ad un decennio la riforma delle autonomie locali intervenute nel 90. Perché Antonio si appassiona da fisico quale è e quale si ritiene ai modelli teorici e alla loro applicazione. Questo fa sì che gli vengano chiesti anche consigli su molte altre cose. Per esempio, sul progetto Giovani, importantissimo in quegli anni, oppure sul centro di documentazione ricerca e iniziativa delle donne, altra istituzione importantissima, concepito nell'83 come istituzione comunale, perciò pubblica, e affidata in gestione all'Associazione Orlando di Natura Privata, composta da donne esperte in materia. Sono tutti modelli che poi verranno replicati in molte altre città. Dalle elezioni amministrative del 1985 cambia delega. Università, polo, scientifico e tecnologico. Siamo alla vigilia del nono centenario dell'Ateneo, nell'88. Il Comune in quel periodo fa moltissimo per l'Università, per esempio, la nuova Aula Magna, bellissima, di Santa Lucia, ma soprattutto promuove un cambiamento profondo nei rapporti tra città e università, che fino a quel momento si guardavano da lontano. La svolta dell'89, che fa cambiare nomi al PC, promossa dal segretario Achille Occhetto, coinvolge molto Antonio, che a Bologna ne è ispiratore e promotore, per questo nel 90. Cessa di ricoprire incarichi amministrativi ed è di nuovo capogruppo per poi diventare segretario della Federazione Bolognese del Partito Democratico della Sinistra del PDS. Nel 94 diventa segretario regionale, lo ricordava prima Bonacini, del PDS e partecipa alla nascita dell'Ulivo e alle elezioni che nel 96 portano Romano Prodi a Palazzo Chigi. Pierluigi Bersani diventa ministro dell'Industria e Antonio viene eletto alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Nel suo mandato concentra il proprio impegno sulla forma istituzionale della regione, i modelli, all'interno del dibattito molto intenso sul federalismo che nel 2001 uno sfocia nella riforma del titolo quinto della Costituzione. Dal punto di vista programmatico la sua presidenza è caratterizzata dall'attenzione alle scuole paritarie in nome dell'applicazione del principio di sussidiarietà, dal sostegno alla ricerca sulle problematiche del lavoro nella fabbrica contemporanea, dal ripensamento delle relazioni tra istituzioni e mercato e al rinnovamento del sistema di welfare. All'inizio del 99 Antonio aderisce al nuovo partito i Democratici che ha un asinello nel simbolo e fa riferimento a Romano Prodi. Per questo si dimette da presidente della Giunta che si dimette a sua volta in blocco. Si apre una stagione di grande collaborazione e amicizia con Arturo Parisi che continua per tutto il corso della sua vita. Dopo le elezioni regionali il 7 giugno del 2000 Antonio venne eletto presidente del Consiglio regionale carica che mantiene fino alla fine della legislatura nel febbraio del 2005. Insieme ai Democratici confluisce successivamente nella Margherita della quale diventa responsabile nazionale per gli enti locali. Partecipa poi al processo di formazione del Partito Democratico. Alle elezioni politiche 2006 viene candidato ed eletto alla Camera dei Deputati nella lista dell'Ulivo. Alle elezioni politiche 2008 viene riconfermato deputato nelle file del Partito Democratico fino al termine della legislatura nel 2013. Antonio ci lascia muore all'età di 77 anni a Bologna il 10 giugno del 2022 e risentire oggi la sua voce è emozionante. Grazie e grazie a Marinella Manicardi adesso passerei la parola ad Albertina Sogliani che ha curato la prefazione del volume. sentiamo che Antonio è qui oggi e qui con le sue parole raccolte nel libro con la messa a disposizione di alcuni discorsi che hanno segnato la sua presenza nelle istituzioni di Bologna e che i suoi amici hanno raccolto. e qui un anno dopo il suo ultimo saluto così sofferto così consapevole direi condiviso e perciò consegnato per sempre alla vita. Antonio è qui oggi con la sua comunità politica si direbbe oggi ma direbbe anche lui perché la sua vita è stata anche la nostra vita inseparabile quello che lui era quello che lui faceva dagli altri e questo è un punto essenziale della politica. In questi discorsi in queste pagine e quindi in lui nelle sue parole se si potesse dire con una parola sola quello che è stato quello che era quello che rappresentava il pensiero non solo un pensiero ma la forza del pensiero in queste pagine c'è la sua grande visione politica la politica come visione anzi entrando più nel presente nel suo tempo il sogno della politica nel mondo globale capito subito in queste pagine c'è l'idea del cambiamento necessario sempre per le comunità per il nostro paese per il mondo e per il cambiamento è necessaria l'unità delle migliori energie anche se vengono da strade profondamente diverse la vita di Antonio è lì e noi oggi siamo qui molto uniti e non da stamattina è molto plurale nei suoi discorsi c'è il grande coinvolgimento di tanti di un popolo di lavoratori di studenti dei quartieri delle donne nei discorsi di Antonio sono molto presenti in fondo l'essere della democrazia e poi nei discorsi di Antonio c'è il modo il metodo gli strumenti gli attrezzi per avvicinare gli obiettivi del sogno e cioè l'intelligenza la ragione la capacità di leggere dentro gli avvenimenti e poi c'è il senso di un compito e quindi c'è il cuore mai appagato Antonio in queste pagine c'è la sua intensità mi verrebbe da dire che ci vorrebbe così poco a fare il partito democratico e mi sembra l'eredità di Antonio ci vuole poco se scegli l'essenziale incontriamo dunque la forgia nelle sue parole lui cercava la parola della politica quella più appropriata la parola della politica oggi così fragile così incerta mentre prendere la parola è la cifra della politica da Atene in poi è come se Antonio si fosse dato quel compito di prendere la parola e in questo senso parlo almeno per me ci ha educato a lungo e sappiamo che così cresce la democrazia Antonio queste cose le sapeva cercava una parola competente per rilegittimare la politica e proprio nel percorso tipico della politica cioè degli schemi dei modelli dei percorsi dei processi e dei soggetti sappiamo tutti anch'io so per la mia parte per quello che ho condiviso con lui Antonio ha abitato la crisi del suo tempo del nostro tempo la crisi della storia di quegli anni alla fine del secolo scorso in fondo ci spaventa abitare una crisi eppure io credo che voglia dire essere più vicini alla verità della politica alla verità delle cose la quale emerge là dove si lasciano le cose che non servono più e si affacciano e si intuiscono le cose nuove peraltro da definire non sono mai date compiute non solo chi è vicino così alla politica nel senso che vuole capire la crisi in fondo per guidarla in fondo semplicemente per non esserne travolti è vicino alla sofferenza della politica al suo travaglio direbbe la sequenza pasquale al duello sfolgorante tra la vita e la morte tra il bene e il male perché di questo si tratta anche in politica erano gli anni in cui finiva il partito comunista e peraltro specularmente finiva la democrazia cristiana finiva una storia finivano decenni finiva un mondo finiva un secolo quanti siamo qui e abbiamo la fortuna di essere arrivati fin qui credo che ci ricordiamo il travaglio la sofferenza la pena l'angoscia dei giorni delle notti dei lunghi congressi che non finivano mai che semplicemente per chiudere bottega non so come dire ma la storia è stata questa Antonio Laforgia era lì in piedi dentro gli eventi nel dolore degli eventi e nella scelta esigente che determina un po' di apertura sul futuro forse il cammino nuovo abbiamo ben capito la sapienza del Coelet c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo per ogni cosa c'è il suo momento un tempo per costruire un tempo per distruggere c'è un tempo per nascere un tempo per morire un tempo per abbracciare un tempo per lasciare gli abbracci un tempo per la guerra e un tempo per la pace e via via una generazione va una generazione viene nel nostro pezzo di strada io sentivo Antonio dentro questa saggezza in profondità sappiamo bene che ha aperto vie nuove ha concorso con altri ma in maniera decisiva per il campo che lui coltivava per la vigna in cui lavorava lì nella crisi c'era la scelta da compiere che era insieme rottura e nuove prospettive nuove prospettive ulteriori di unità di innovazione e di fiducia sempre un uomo della democrazia e dopo la crisi dei grandi partiti in cui eravamo nati cresciuti vissuti formati consolidati che sembrava non dovessero finire mai ecco un altro sogno così liberatorio la stagione dell'ulivo e poi dopo poco non si sta bene a lungo la gelata dell'ulivo vissuto con un'altra sofferenza e ci trovammo lì e ci troviamo qui oggi e ci troviamo qui con Romano Prodi con Arturo Parisi e con altri era un nuovo tempo quello dopo la gelata del sogno da riprendere non si sapeva come lasciatemi dire un altro tempo di resistenza è una parola che mi sembra un po' smarrita oggi non sappiamo bene come maneggiare ma siccome la sua forza è più che nelle scelte esteriori nella radice interiore nella forza di una resistenza morale soprattutto mi pare gli interpreti bene come siamo stati in quella fase come è stato Antonio ha resistito in fondo nella scelta delle ragioni più profonde della democrazia le ragioni più profonde della politica e sentivamo la bellezza della condivisione abbiamo sperimentato con Antonio in fasi diverse credo la politica come amicizia che comprende anche il cammino solitario quando la sfida guarda te negli occhi e sei tu che ne rispondi non importa quello che accade attorno a te e di Antonio io conservo l'idea di un silenzio profondo necessario per far uscire le parole per far uscire le parole autentiche chissà perché a me pare che Antonio sia stato un politico capace di silenzio per me che sto nell'Emilia non dico la periferia quasi della regione ma in una parte ho sempre avuto l'impressione che Antonio Laforgia fosse come il condottiero della regione la regione Emilia Romagna è stata ed è Antonio Laforgia soprattutto in quella fase di passaggio drammatica con il governo della regione mentre era in crisi la politica che aveva determinato il governo della regione e lui ha testimoniato che il passato non basta a se stesso e ha testimoniato semplicemente che il potere non basta a se stesso ci vuole una ragione per stare lì sì credo che la sua eredità sia oggi qui nella fiducia di quello che possiamo fare noi in quello che possiamo essere noi semplicemente credo di portare con me di lui questo senso che il cambiamento che vuoi e che cerchi di provocare nasce innanzitutto dentro di te dentro di noi nasce e cresce se c'è coraggio se c'è pazienza in ogni giorno della nostra vita di un altro che ha resistito su fronti differenti di cui si ricorda in questi giorni l'anniversario della morte il cardinale Agostino Casaroli si parlò di martirio della pazienza siamo qui con una immensa gratitudine caro Antonio resta la tua memoria con noi resta là dove noi custodiamo il senso della vita e custodiamo il valore della politica lì sentiamo che tu continui a proteggerci grazie 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 Albertina Soliani darei la parola al sindaco di Bologna Matteo Lepore buongiorno grazie per la vostra bella partecipazione saluto ovviamente tutta la famiglia gli amici collaboratori e tante persone che sono qui oggi per questa presentazione dopo le parole di Albertina Soliani davvero credo che la sfida di raccontare perché per me è importante essere qui oggi è ampia è alta diciamo però molto mi sono interrogato in questi mesi anche dopo la celebrazione che abbiamo fatto per l'ultimo saluto dove ho ascoltato parole molto importanti di compagni e di persone che hanno condiviso con lui ben più di una battaglia politica e anche di riflessione di momenti molto intimi in quei giorni abbiamo tutti detto delle cose abbiamo anche organizzato una cosa alla festa dell'unità dove già sono intervenuto su alcuni aspetti e oggi mi volevo concentrare in particolare sul libro perché oggi poi presentiamo questo e sarà che all'odore dei libri di scuola perché ho appena stampato e quindi per un sindaco della città di Bologna leggerlo credo sia molto importante io in questi mesi in questo primo anno e mezzo ho avuto modo di leggere diversi testi dei discorsi di sindaci di consiglieri comunali devo dire che per la mia generazione è complicato rapportarsi con le stagioni che ci hanno preceduto perché i linguaggi sono differenti la dimensione dentro il quale ci muoviamo è molto diversa le relazioni fra di noi sono molto diverse questo credo sia una delle cose più più importanti per chi come me ha vissuto anche parte dell'epoca precedente in un ruolo da semplice militante come diceva Bonaccini prima giovanissimo vedere lo scarto con l'oggi dà la percezione di cosa è cambiato e fa una certa impressione a volte in negativo a volte in positivo perché le cose come sempre hanno vari aspetti mi chiedo a volte la generazione che non ha vissuto o non ha interpretato in prima persona certi passaggi come possa leggere le pagine di questi libri ad esempio rileggendo l'intervista di Enzo Biaggi a Zangheri io spesso la rileggo un libro che tengo sulla mia schivania ci sono non solo nel dialogo fra di loro ma anche nei discorsi che Biaggi ha scelto all'interno di quella pubblicazione di Zangheri diverse cose che sono il portato di Zangheri rispetto a quello che sarebbe stato il futuro della città ho riletto con gli stessi occhi questo libro che voi avete curato perché io ho avuto solo l'onore di scrivere un saluto all'inizio e tanti hanno partecipato alla redazione di questo libro e lo si può anche notare conoscendo le persone dalle cose che sono state scritte in particolare mi voglio soffermare su un discorso che la Forge ha fatto verso le lezioni dirette dei consigli di quartiere perché può sembrare paradossalmente uno degli argomenti meno importanti forse oggi nel nostro dibattito comunale politico potrebbe sembrare l'ultimo dei discorsi noi oggi fatichiamo a comprendere la funzione dei consigli di quartiere del ruolo dei consiglieri di quartiere del perché ci ostiniamo mantenere un decentramento delle istituzioni a livello territoriale anzi negli ultimi 15 anni abbiamo ridotto il numero dei consigli di quartiere abbiamo ridotto all'osso praticamente tutto sui consigli di quartiere eppure in questo intervento che è un'argomentazione dotta e anche ampia oggi nessun politico farebbe un intervento di questo genere sicuramente in un consiglio comunale è come ritrovare una tesi di dottorato o di forse di triannale ecco il dottorato sarebbe molto più lungo diciamo di una triannale che recupera il perché innanzitutto di una discussione che si deve fare perché è un intervento che pone delle domande non è necessariamente l'intervento che vuole imporre una tesi apre ad una discussione apre ad una discussione che non è solo sull'oggi e non è solo sulla dimensione localistica ma anzi sul perché della politica del confronto fra i partiti dell'epoca e non a caso a un certo punto c'è anche un passaggio simpatico su la dottrina Morro e lui dice non credo che su questi temi possa essere riprodotta una specie di dottrina Morro per cui così come l'America spetta gli americani la democrazia cristiana è dei democristiani e il partito comunista è dei comunisti non credo che questo sia un atteggiamento produttivo e pone attorno all'argomentazione dell'elezione diretta la necessità da un lato di ritornare ad arare il terreno della democrazia e della partecipazione dei cittadini proprio perché si sente che sotto i piedi non riescono più a calpestare la terra probabilmente a raccogliere la reale rappresentanza di quello che è il sentire della popolazione ma allo stesso tempo in questo intervento pone ai partiti una sfida cioè dice noi possiamo anche riformare le nostre istituzioni locali possiamo anche dare nuovi luoghi dove facciamo scegliere direttamente ai cittadini ma questo non deve significare la rinuncia da parte dei partiti a svolgere il proprio ruolo costituzionale anzi deve essere uno stimolo a rafforzare e a rinnovare il proprio ruolo anche e soprattutto nel pluralismo dentro fuori i partiti e tra i partiti perché l'elezione diretta non può essere un'applicazione alle forme organizzate della politica qui stiamo parlando dei consigli di quartiere non stiamo parlando della elezione diretta del presidente del consiglio o della repubblica non stiamo parlando della riforma del titolo quinto non stiamo parlando di una riforma di una legge elettorale stiamo parlando dei consigli di quartiere del comune di Bologna di quell'Atene che Albertina Soliani prima citava e che anche nella sua prefazione ha citato quel luogo speciale nel quale tutti noi viviamo e ci ritroviamo nel quale proviamo a misurare le grandi argomentazioni della politica ma credo che in particolare qui ci sia non solo la profondità di un pensiero ma la necessità anche di rimettere mano a quelle che sono le relazioni e la convivenza fra di noi cioè di questo sento molto la mancanza in questo sento come sindaco la necessità che tutti quanti e non c'è la risposta di una persona sola a questo problema dobbiamo riuscire a ricostruire la nostra capacità del fare politica assieme di ricostruire prendendoci cura delle forme e della sostanza della politica e quindi anche delle relazioni fra di noi della nostra capacità di produrre un cambiamento perché ragionare attorno alle forme della politica e alla sostanza della politica è un modo per rigenerare la politica e rigenerare il nostro modo di stare assieme e devo dire che fra tutti i discorsi che ho letto quello che più mi ha appassionato è questo avrei potuto citare le questioni universitarie le questioni del polo tecnologico sono stati scelti i titoli anche importanti per i discorsi che recuperano associati al dibattito dell'oggi le sfide della città quello che è il destino di Bologna potremmo parlare dello stesso tecnopolo e del rapporto fra la città e gli studenti qui in un intervento si racconta la svolta dei 30.000 studenti universitari oggi cosa potremmo dire della città dei 30.000 studenti universitari un mondo totalmente differente impensabile oggi una Bologna con 30.000 studenti universitari ma quello dei consigli di quartiere credo che è ridotto a l'interesse di un sindaco che in questo momento si trova nella necessità di risolvere i problemi della raccolta differenziata ma io sento l'esigenza e la necessità di affrontare di nuovo quella grande missione che Bologna deve avere come Atene della politica è un piccolo sogno che noi tutti conserviamo ma questo richiede un sforzo intellettuale politico e umano grandissimo e anche quell'idea della politica e dell'amicizia in politica che probabilmente è lo sforzo più grande che richiede quel senso di responsabilità e quel anche coraggio nelle scelte che Antonio Laforgia ha sicuramente testimoniato messo in campo in prima persona in questo ho trovato un grande insegnamento l'ho trovato nel giorno in cui abbiamo fatto l'ultimo saluto nelle parole delle persone che sono intervenute l'ho trovato nelle giornate in cui abbiamo discusso di come è redarne questo testo e l'ho trovata oggi nelle parole di Albertina Solliani e per questo la ringrazio come ringrazio tutti voi perché essere qui oggi portare avanti questo libro leggerlo significa non abbandonare la speranza del cambiamento e di un'idea di una politica che a volte nel dibattito in maniera abusiva vogliamo definire riformista ma che sicuramente in questo testo ha una delle migliori rappresentazioni di cosa vuol dire lavorare per riformare dedicandosi alle persone alla comunità e alla cura delle nostre relazioni umane grazie 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 al sindaco Matteo Lepore richiamerei sul podio Marinella Manicardi che ci leggerà un altro intervento del volume proprio su uno dei temi citati dal sindaco sul polo tecnologico quando abbiamo deciso abbiamo scelto mi sono stati proposti dei brani da leggere devo dire che il pezzo sui quartieri era uno di quelli più gettonati bellissimo il pezzo sui quartieri proprio per concezione per ragioni di tempo invece vi leggerò solo un altro intervento di Antonio Laforge del 24 febbraio del 1986 vi prego di tener conto della data ed è l'intervento con cui l'amministrazione comunale si impegna per la realizzazione di un polo scientifico e tecnologico voilà siamo lì l'intervento di Antonio è molto più lungo vi do dei brani viene da tutta una serie di considerazioni sull'importanza della funzione della macchina comunale sia come teoria che come poi prassi amministrativa di funzionare prosegue ma accanto all'attribuzione sua propria di regolatore dello sviluppo urbano il comune deve esercitare la sua generale funzione di governo intervento e partecipare all'impresa della realizzazione del polo scientifico e tecnologico proponendo assieme all'amministrazione provinciale alla regione Emilia Romagna il tavolo attorno al quale raccogliere e verificare il consenso dei partner principali e indispensabili allo sviluppo con successo dell'iniziativa assicuriamoci che ci siano tutti quelli che ci devono essere ma voglio espormi alla vostra critica rivolgendo a me stesso e al consiglio un'altra domanda si esaurisce qui il compito dell'amministrazione comunale oppure sono possibili per l'amministrazione e anci auspicabili ulteriori ambiti di iniziative di intervento la mia risposta lo dico subito con molta franchezza è decisamente affermativa e sono molto le ragioni che mi spingono a rispondere così su tutte vedo questa vedo le amministrazioni locali poste di fronte a una sfida che non può essere rifiutata che deve essere accettata e vinta o le amministrazioni comunali riusciranno a dotarsi rapidamente della cultura di governo necessaria ad estendere il proprio intervento oltre i loro compiti tradizionali o il loro intervento anche negli ambiti tradizionali è destinato alla progressiva dequalificazione siamo stati parte importante di un processo di redistribuzione della ricchezza nella forma di servizi sociali prestati alle persone abbiamo fornito un sostegno allo sviluppo economico attraverso la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali tutto ciò oggi non basta più ad esprimere compiutamente gli interessi della comunità locale e quando anche bastasse non sarebbe più possibile farlo senza misurarsi con i processi della produzione dell'accumulazione della ricchezza senza l'individuazione delle priorità che vogliamo siano soddisfatte da una ripresa dello sviluppo particolarmente in questa occasione in questa discussione dobbiamo tenere presente che la scelta per lo sviluppo e per l'innovazione non può essere compiuta senza ulteriori aggettivazioni non può essere compiuta in termini puramente neutri per le donne e per gli uomini del nostro tempo per i giovani soprattutto sviluppo crescita progresso hanno cessato di essere tra loro termini sinonimi vi ricordo che siamo nel 1986 non ieri oggi se vogliamo rappresentarli i giovani davvero dobbiamo essere o divenire partecipi di questo loro disincanto in questa nostra discussione siamo tutti stiamo tutti scommettendo sulle enormi potenzialità di arricchimento di liberazione della persona che ci pare di intravedere nell'applicazione sempre più estesa della scienza e della tecnologia alla produzione dobbiamo farlo di crederci ed è giusto farlo se ci sottraessimo alla scommessa dovremmo rinunciare al nostro futuro scommettiamo dunque ma senza distogliere lo sguardo dalla evidencia empirica di fronte ai nostri occhi che ci mostra come lo sviluppo delle tecnologie produttive possa essere distruzione di competenze e di figure professionali devastazione sociale espulsione senza possibilità di ritorno di uomini e di donne dalle attività produttive ecco io ritengo che da parte nostra ogni sforzo debba essere compiuto per portare l'amministrazione comunale ad acquisire rapidamente la cultura e le attitudini necessarie ad intervenire nel merito delle scelte di innovazione e di sviluppo esercitando pienamente il ruolo che è suo proprio il ruolo cioè di rappresentante generale degli interessi della comunità locale il discorso e l'intervento di Antonio prosegue a lungo io chiudo questa lettura non ho resistito non abbiamo resistito a citare insieme all'impegno alla visione anche quella che da attrice mi permetto di chiamare il La Forgia Tacci l'ironia di Antonio che metteva anche nelle discussioni più seri più difficili e questo è il peccetto affronterò ora il rischio dell'eccesso retorico dell'eccessiva enfatiggiazione voglio però dire poiché ne sono convinto che difficilmente potremmo sottovalutare l'importanza del tema che stiamo dibattendo e della decisione che stiamo per prendere sono davvero convinto che questa nostra discussione e la nostra decisione di avviare la realizzazione di un polo scientifico e tecnologico a Bologna costituirà una decisione importante un punto di passaggio significativo non soltanto per il lavoro e l'attività della nostra amministrazione ma anche soprattutto per lo sviluppo futuro della città e questa decisione ci consentirà anche di lasciare finalmente dietro le nostre spalle il rimpianto dei magnifici anni 60 e ci restituirà tutta intera la responsabilità di fare tutto ciò che sta a noi per progettare il futuro di Bologna grazie grazie marinella e passerei la parola adesso alla presidente dell'assemblea legislativa Emma Petitti grazie mi associo a quanti mi hanno preceduto nei ringraziamenti nei saluti alla famiglia agli amici a tutti i presenti a tutti coloro che hanno collaborato a questo importante testo e alle istituzioni che si sono strette nella volontà di costruire questa biografia importante per tutti noi e in un tempo in cui Antonio Laforgia lo sappiamo è stato detto ci ha lasciato un anno fa preciso in un tempo sicuramente difficile complesso come quello che viviamo segnato da tragedie alcune molto recenti che ci hanno anche portato a dover trovare nuove soluzioni a riflettere a riflettere profondamente anche su quello che è il senso di comunità una parola che è emersa in tutti gli interventi e che appartiene alla storia politica istituzionale di Antonio Laforgia e allora provo soltanto a riprendere anch'io alcuni passaggi alcune parole chiave di questa storia importante che sono quelle che poi hanno anche colpito più me e che riguardano io credo anche quella che è stata una preziosa capacità di elaborazione di critica che ci ha consegnato Antonio Laforgia veniva detto molto bene Albertina Soliani lo ha definito mai appagato nella sua curiosità continua nel suo interrogarsi su come cambiano le nostre città le nostre istituzioni su come la politica debba essere all'altezza delle fasi che attraversano e e quando l'ho detto nel mio punto saluto iniziale al testo quando parliamo di Antonio Laforgia noi sappiamo che celebriamo la buona politica è una visione alta delle istituzioni ancora una volta questa conoscenza questa consapevolezza ci a tutti noi ci responsabilizza e ci porta inevitabilmente a capire che è necessario alzare sempre di più l'asticella rispetto alla fase che noi viviamo e rispetto al ruolo che le istituzioni oggi rivestono in questo tempo innovatore un grande innovatore un grande riformatore della politica e delle istituzioni e allora nella sua lunga e importante biografia che ha accompagnato tutta la sua i suoi impegni politici e istituzionali mi piace lo ricordava Marinella ricordare anche il suo impegno per il centro documentazione donne di Bologna guidato dall'associazione Orlando qui ci sono molte amiche perché è una realtà che ha segnato profondamente quella del centro documentazione donne e anche la mia vita personale il mio percorso di crescita e trovo che quando uomini nelle istituzioni nel tempo anche passato hanno colto l'importanza dell'investimento anche su questioni di genere questioni delle politiche femminili credo che anche lì ci sia il segno dell'innovazione del politico e dell'uomo Antonio Laforgia e poi quell'aspetto legato agli altri alle persone alla comunità l'essere empatico e l'essere capace di dialogo di ascolto e di dialogo oggi più che mai aspetti di cui abbiamo bisogno saper guardare la politica con gli occhi delle persone chiedere alla politica di studiare chiedere alle persone che si occupano di politica di capire di costruire qualcosa di migliore e più efficace del passato e poi con lui l'Emilia Romagna lo sappiamo è stato raccontato e detto benissimo ad Albertina l'Emilia Romagna è cresciuta molto ed è diventata un punto di riferimento di tutta l'Europa quella che noi oggi definiamo la nostra regione regione d'Europa e molto lo dobbiamo ad Antonio Laforgia e a quello che lui ha fatto negli anni in cui ha guidato la nostra regione e io credo che uno dei sensi il senso forse più profondo di questa storia sta nel nell'andare alla radice dei problemi perché Laforgia sapeva andare alla radice dei problemi e non si accontentava mai di quella che era la superficialità delle cose delle persone e dei problemi e sapeva anche che non bastava celebrare il passato per quanto fosse glorioso per tramandare alle nuove generazioni un patrimonio di lotte e di conquiste politiche civili e sociali e sapeva che la politica era pensiero allo stesso tempo azione senza pensiero la politica è destinata a consumarsi nell'ordinaria amministrazione nella gestione quotidiana sensazione il pensiero può diventare solo speculazione filosofica non riesce a far germogliare prassi di governo capaci e allora io credo che ricordare tutto questo oggi ricordarlo con un volume importante io voglio veramente ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al testo ringraziare anche l'assessore Felicore Giovanni Taurasi il sindaco di Bologna insieme ad Angelo Leggeri perché c'è stato veramente un lavoro corale io credo che ricordare la storia di Antonio Laforgia e presentare oggi questo volume sia un omaggio all'uomo sia un omaggio al politico al presidente visionario e pragmatico ma al contempo è un lascito che noi rivolgiamo a tutti coloro che sanno che serve lottare per essere realmente al servizio delle nostre comunità e quindi per noi per me come presidente dell'assemblea è un onore aver potuto partecipare a tutto questo grazie alla presidente Emma Pepititti e chiamerei Marinella per gli ultimi contributi dal volume grazie mi fa piacere scusate mi permetto una nota personale fuori dal mio essere attrice lettrice mi fa piacere questa sottolineatura del centro di ricerca delle donne perché qualcuno si è chiesto ma perché un'attrice a leggere delle parole di un uomo è perché a Bologna Antonio Laforgia ha contribuito a far nascere il centro di documentazione delle donne che ha cambiato anche la visione dei rapporti tra uomini e donne in questa città e non solo beh chiudiamo con non un discorso da comune o da regione anche se è avvenuto in comune ma con la prolusione per il conferimento del Nettuno d'oro a Fulvio Alberto Medini mitico segretario del comune di Bologna la prolusione è avvenuta il 25 marzo del 2011 Medini ha trascorso 50 anni qui dentro nel comune e nell'amministrazione comunale costruendo come afferma la motivazione di questo suo Nettuno d'oro uno straordinario percorso professionale credo che proprio questo all'incipit sia il momento giusto per ringraziare la signora Medini per aver dato avvio a quel percorso già che fu per lei per poterla sposare e metter su famiglia con lei che Fulvio decise di lasciare le aule della giovane scuola di statistica all'università per gli uffici dell'amministrazione comunale ovviamente io non tenterò di riassumere neppure per sommi capi le tappe e i risultati della vita di Medini nell'amministrazione provo tento di riassumere e per farlo devo chiedervi di tornare con la mente all'indomani della guerra di liberazione del referendum istituzionale della Costituzione al passaggio della fase della ricostruzione a quello che sarebbe stato poi definito il miracolo economico italiano Bologna sperimentava allora una differenza specifica nel quadro della politica nazionale i partiti quello comunista e quello socialista alla guida del comune erano impegnati ideologicamente e politicamente in una contrapposizione di sistema sociale e di campo internazionale non era per nulla scontato che si riuscissero a trovare la via per tenere assieme una tale collaborazione e insieme la guida amministrativa di Bologna ma no niente affatto scontato io stesso ad esempio mi offro al vostro sarcasmo ancora ancora sul finire degli anni sessanta pensavo che l'amministrazione del comune potesse essere forse un impaccio per la politica del partito comunista ed invece per quanto io non riuscissi ancora a vederlo era già in opera e da tempo uno straordinario circolo virtuoso l'origgionte o il sogno come si direbbe oggi 2011 la visione come si dice oggi nel 2023 di una nuova società approfondiva il significato e allargava il respiro dell'azione amministrativa e per converso la qualità e l'efficacia dell'amministrazione venivano offerte a prova di ciò che i comunisti e la sinistra avrebbero saputo fare quando fosse toccato loro di guidare l'intero paese e non solo una città pur robusta e importante come Bologna perché Bologna era una vetrina come si disse poi nel 77 forse per segnalare che era stata mandata in frantumi quella vetrina quel circolo virtuoso era ovviamente instabile permanentemente a rischio di una rottura di una degenerazione schizofrenica in due politiche giustapposte evitarlo richiedeva un'elaborazione politica che effettivamente prese corpo nel tempo prima sotto traccia implicita e via via sempre più aperta e argomentata ma richiedeva altrettanto che l'amministrazione i suoi quadri intendo i suoi dirigenti si sottraessero consapevolmente alla torsione di quella potenziale schizofrenia praticassero quella distinzione tra politica e amministrazione così tempestivamente fissata da Weber e così tardivamente entrata nel lessico temo ai me solo nel lessico della politica italiana occorreva insomma che lo stato maggiore dell'amministrazione assumesse come propria la missione di perseguire l'efficacia dell'intervento comunale ne facesse la cifra caratterizzante dei propri comportamenti l'orgoglio della propria professione non credo di dover spendere parole per convincervi che sto parlando di una sorte di doppio salto mortale di una condizione di una postura difficilissima da acquisire e mai acquisita definitivamente tuttavia mi permetto di formulare un giudizio quella condizione fu in larga misura acquisita e fu sostanzialmente tenuta nel tempo ecco dietro il curriculum di Medini io vedo esattamente questo un ruolo un contributo essenziale ad assumere e a tenere quella postura a disegnare e a praticare il ruolo proprio dell'amministrazione a coltivare l'orgoglio uso ancora questa parola delle prerogative e delle responsabilità specifiche della direzione amministrativa questa storia è stata per lungo tempo una storia di successo già dalla posizione di ragioniere generale in quanto responsabile in ultima istanza delle risorse comunali e ancor più e ancor meglio nella funzione di segretario generale reggente o ruggente delle volte eh che fosse Medini divenne il depositario non discusso della legittimità degli atti e della affidabilità dei dati e dei fatti oggetto di discussione sia dietro le quinte nei rapporti quotidiani con il sindaco frequentissimi con gli assessori maggioranza e opposizione sia sotto i riflettori del consiglio comunale gli interventi di Medini valevano liberare il confronto politico dalla manipolazione strumentale dei fatti e a indicare nitidamente il limite di legittimità che non avrebbe potuto essere barcato l'intervento è molto lungo leggetelo sul libro è bellissimo faccio un piccolo salto ma qui nasce un'altra domanda a quali risorse ha attinto Medini hanno attinto coloro che con lui hanno assunto quella postura che prima ho cercato di descrivere e qui Antonio da intellettuale giustamente qual era fa una citazione e cita un libro di Ortega Igaste del 1930 si chiama La ribellione delle masse dove c'è un capitolo che è intitolato l'epoca del signorino soddisfatto e Antonio si chiede se la generazione del dopo miracolo economico la generazione dei baby boomer che si sono dedicati alla politica che sono però arrivati in un panorama dove molte conquiste erano state fatte dove in fondo ci si trovava in una situazione di benessere in una città che funzionava ecco si chiedeva se chi è entrato in politica dopo la generazione del dopoguerra si comportava come un signorino soddisfatto riprende ebbene Medini non è e non è mai stato un signorino soddisfatto e molti nello stato maggiore del comune di Bologna non sono mai stati signorini soddisfatti talora forse signorini ma non soddisfatti troppo saldo il principio di realtà troppo intima e radicata la consapevolezza che le società in cui viviamo le nostre comunità urbane non sono un dato di natura ma un prodotto della storia e hanno quindi bisogno di essere accudite ogni giorno con competenza con amore coltivando gli alimenti essenziali alla loro vita il senso della sicurezza l'affidabilità delle relazioni interpersonali e la fiducia che nasce dalla certezza di una comune appartenenza e questa è la ragione io credo per la quale il comune di Bologna è apparso a tanti e per tanto tempo un giardiniere tenace un giardiniere di straordinarie capacità in una certa fase persino il giardiniere per antonomasia di questo devo ringraziare Medini e devono essere ringraziati tutti quanti hanno condiviso con lui la stessa passione e la stessa missione qui finisce la relazione per il segretario Medini ma ci piaceva chiudere con le poche righe che Antonio ha pronunciato al saluto di fine alla fine della legislatura in consiglio regionale il 15 febbraio del 2005 signore consigliere signori consiglieri come immagino sappiate di intesa con la conferenza dei capigruppo abbiamo proceduto ad annullare la convocazione delle sedute della giornata di domani quindi questa è l'ultima seduta del consiglio regionale nel corso della settima legislatura non mi pare vi siano le condizioni per continuare vi confesso che nei giorni scorsi mi sono interrogato su quali potessero essere le parole che avrei potuto pronunciare in conclusione dell'ultima seduta ma non le ho trovate a questo punto se me lo consentite me la cavo con due citazioni una del soffizio del soffizio del soffizio del mio amico Achille Occhetto è stato bello grazie grazie a Marinella Manicardi per questi contributi che ci hanno aiutato un po' insieme anche ai discorsi e alle riflessioni degli altri relatori di oggi a ricostruire qualche frammento qualche spaccato del pensiero e della vita di Antonio Laforgia io volevo ringraziare anche tutti gli intervenuti qui oggi per aver condiviso diciamo quest'ora insieme a noi per un ricordo che come istituzioni come Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna insieme anche a insomma come diceva anche credo il sindaco all'inizio ha contributo di tanti amici e compagni tante battaglie hanno voluto insomma ricordare con la propria presenza questa figura che ha lasciato una traccia importante e indelebile nella storia politica e amministrativa del territorio e faccio un ultimo ringraziamento alle persone che hanno contribuito a questa giornata e a questo lavoro che non sono visibili quelli che hanno lavorato dietro le quinte ringrazio i cerimoniali del Comune della Regione Emilia Romagna che hanno fatto in modo che l'invito arrivassi a tutti così come ai relativi uffici stampa e ringrazio in particolare anche il personale dell'Archiginnasio che con un lavoro molto prezioso presente silenzioso ha consentito che tutto andasse alla perfezione oggi vi ringrazio ancora buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti